Bisogna mettere in campo misure tangibili, percorribili attraverso politiche di crescita per il Paese. Basta con la politica del rigore che penalizza in maniera incontrovertibile la fascia dei cittadini e lavoratori più deboli, frenando la crescita e non offrendo soluzioni per l'uscita dalla crisi. E' il commento di Aldo Pugliese, segretario generale della UIL di Puglia e di Bari, dinanzi al quadro completo dei dati della Casa Integrazione 2012 e alla nuova ondata di richieste all'Inps nel mese di dicembre di Casa Integrazione da parte delle aziende della Puglia. L'anno appena concluso fa registrare un consistente aumento della Casa Integrazione sul precedente anno. Nel 2012 le aziende italiane hanno chiesto all'Inps oltre un miliardo di ore di Casa Integrazione a fronte dei 973 milioni del 2011, con un aumento del 12,1% rispetto al 2011. Quasi è eguagliato il triste primato del 2010, quando le ore autorizzate dall'Inps furono 1,2 miliardi. Numeri alla mano in Puglia nel 2012, l'aumento sul 2011 è decisamente superiore rispetto al dato nazionale, addirittura del 20,5%, 62,8 milioni di ore nel 2012, a fronte di 52,1 milioni del 2011. Poi, passando dal dato complessivo annuale a quello mensile, nell'ultimo mese di dicembre sono stati autorizzati in Puglia 3,8 milioni di ore da parte dell'Inps, con un incremento del 34,5% sul precedente mese di novembre. Nello specifico, le ore richieste all'Inps dalle aziende della Puglia per la Casa Integrazione Ordinaria a dicembre diminuiscono, su ottobre 2012, del 15,3%, ma sono in rialzo di 19,6 punti percentuali in termini tendenziali, cioè rispetto a dicembre 2011. Gli interventi straordinari di dicembre crescono in maniera considerevole rispetto a novembre scorso, nonché rispetto a dicembre 2011. Per Pugliese, questo significa che sia rispetto al precedente dato di novembre che all'anno scorso, è cresciuto notevolmente l'alveo aziende della Puglia coinvolte in processi di ristrutturazione e che dunque non attraversano una situazione di difficoltà temporanea, ma realtà di estremo disagio economico. Ne dereiva che sempre più imprenditori stanno cessando l'attività produttiva.